Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti, Provera sono la nuova coppia del momento. I due non hanno paura di mostrare il loro amore in pubblico, scambiandosi baci e effusioni sotto gli occhi dei paparazzi. Ferragni in particolare sembra apprezzare particolarmente essere fotografata e non è difficile capire il motivo. La fashion blogger sta cercando di rilanciare la sua immagine mediatica dopo il cosiddetto Pandoro Gate, che ha messo in discussione la sua credibilità. Ferragni è nota per aver costruito una carriera di successo nel mondo digitale, diventando una delle influencer più famose al mondo. Tuttavia, il suo mondo perfetto è stato messo in discussione da alcune polemiche che l'hanno coinvolta. Nonostante la mancanza di empatia che spesso suscita, Ferragni ha dimostrato di essere una donna razionale e determinata. Il suo ex compagno Fedez è stato l'unico a riuscire a scalfire la sua corazza, mostrando un lato più emotivo di lei. Dopo la fine della relazione con Fedez, Ferragni ha deciso di voltare pagina e ha scelto Tronchetti Provera come nuovo compagno. L'uomo sembra essere il partner ideale per aiutarla a rientrare nel mondo della moda e del digitale. Ferragni ha ripreso in mano la sua vita, sponsorizzando il suo brand e viaggiando di lusso con il suo nuovo compagno. Dopo aver superato le difficoltà del passato, nemmeno che è qui vi riferiamo a noi.